CERCA DI ENTRARE CERCA DI ENTRARE Se risalgo alla fonte del segnale, forse... Eccoti. Ora sei mio. Merda! Un'arma! 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 Ci serve la polizia! C'è un uomo che spara la gente! Non lo so! Non lo so! Ma quante ce ne sono ancora? Un'arma! 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 I ricorso sono i mercenari. Lavorano a contratto. Quindi qualcuno le paga per cercarli. Questa non ci voleva. Se ricordo bene, per comunicare utilizzano la griglia. Andiamo a controllare verso... Centrale, ora controlliamo meglio e vediamo il seguito. Merda, il sospetto è sparito. Informiamo tutte le unità. Grazie per la visione. 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 Grazie. Grazie per la visione. Grazie per la visione. Grazie per la visione.